Una discussione sterile e confusa sul porto di Brindisi e questo è il commento del sindacato Will dopo le polemiche degli ultimi giorni che seguono quelle dei mesi e anni precedenti sul futuro portuale della città di Brindisi. Un rincorrersi dietro le responsabilità che secondo la Will continua a tenere vive le contrapposizioni non portando però ad una soluzione delle problematiche ed ad una idea di sviluppo futuro soprattutto in vista della sempre più imminente decarbonizzazione. Sembra come se su Brindisi c'è una grande cappa di negatività non riusciamo a capire perché ci debba essere sempre una diatriba tra gli enti che si devono confrontare invece di confrontarsi si litigano tra di loro per non lo so accaparrarsi che cosa ancora non siamo riusciti a capirlo perché è un problema quello del porto? Io poi mi domando come ha fatto il dottor Titi ma tutte le riunioni che abbiamo fatto ma le stesse dichiarazioni dello stesso presidente dell'autorità portuale dove diceva qualche giorno fa che comunque ci sono dei progetti già finanziati e i cantieri quando si aprono? cioè non ci risultano apertura di cantieri o disponibilità di discussioni in merito agli assetti organizzativi la decarbonizzazione dipende dal porto e allora anche qui noi ci ritroviamo a discutere con chi o a leggere che il comune dice una cosa e l'autorità portuale ne dice un'altra che invece di sedersi e mettersi d'accordo esprimono pareri come dire disgiunti in riferimento a quello che potrebbe essere invece il bene del territorio